O Dante, o che tu fai stasera, vieni qua, non scappai, non scappai tanto, Dante, allora che mi racconti? Non scappi, vieni qua. Complimenti, 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 grazie, ciao. Il secondo tempo, il secondo tempo, io non l'avevo riconosciuto, perché qua a Barba, mi ha visto a me e si è lasciata a Barba, però che Fernando rimorca tanto qua a Barba, ma me la lascio pure io, ecco qui il protagonista del film Dante di Pugliavati, leziosi, leziosi, Sperduti. Sperduti, vabbè, bravissimi attori, però, Sperduti, vabbè, mi sono confuso, un attimo di, come si dice, di sfarfallamento. Sperduti, allora sarà, questo sarà il primo dei tanti grandi successi, o ce ne sono stati avvicinati, se no non si sente l'audio. Io ce la metto tutta, poi vediamo, sono contento, questo sarà sicuramente un bigliettino da visita molto grande, un bigliettone da visita. Un saluto a tutti dal Prode Fernando e da Alessandro Sperduti. Ciao a tutti, chiudiamo qui la serata. Grazie a tutti.